Musica Sono Chiara Barisone Sono Massimiliano Castellano Abbiamo sicuramente centrato il nostro obiettivo che era quello di cercare di comunicare, strutturare un percorso di formazione che forse è alternativo Abbiamo dato ai ragazzi le nozioni per poter iniziare a guardare oltre il bancone quindi spingersi oltre e i risultati sono quasi oltre le aspettative Musica Accademia Branca nasce dalle forti richieste dei vari barman che grazie all'azienda conosciamo Speriamo di aver dato loro le basi per capire come gestire le risorse del personale capire come gestire se stessi all'interno di un team Siamo veramente orgogliosi di quello che abbiamo fatto pronti ad andare oltre anche noi in quelle che saranno le attività per l'anno prossimo Il nostro obiettivo è stato sin dall'inizio quello di formare futuri bar manager ed è questo anche l'elemento distintivo dell'Accademia rispetto ad altre scuole di formazione che ci sono sul mercato L'esame è stato diviso in due parti una prima parte, un test nozionistico per capire quanto avessero appreso di ogni singola lezione la seconda parte consiste nella realizzazione di un progetto Dall'apertura di un locale fino al lancio anche in comunicazione devo dire che sono stati veramente mossi da una grandissima passione perché l'Accademia Branca è la vera alternativa perché siamo tutta un'altra storia Io sono Sean e tu? E tu? Grazie a tutti.